Digitali per crescere. È questo lo slogan del progetto di Microsoft per quanto riguarda la digitalizzazione del paese. Nei locali della Facoltà di Ingegneria della Federico II è stato inaugurato un nuovo laboratorio che sarà a disposizione degli studenti. Attraverso questa iniziativa la città di Napoli diventa dopo Torino la seconda metropoli coinvolta nel nuovo progetto il cui obiettivo è quello di mettere in relazione le piccole e medie imprese e i giovani studenti che avranno così la possibilità di interagire con gli esperti e i partner Microsoft acquisendo competenze professionali in linea con gli attuali trend tecnologici. Giorgio Ventre, professore ordinario di reti calcolatori dell'Università Federico II. Si tratta di un'iniziativa che cerca di rendere disponibili immediatamente sia gli studenti sia le piccole e medie imprese del territorio i risultati dell'innovazione di aziende tipo Microsoft o dei partner tecnologici di Microsoft. Quindi questo laboratorio sarà una specie di sala dove, ripeto, studenti e piccole imprese potranno usare in prima persona queste tecnologie, potranno testare applicativi, servizi che vogliono sviluppare per mettere sul mercato senza incorrere nella spesa di acquisire direttamente queste infrastrutture. Cosa che sia per gli studenti dell'università da un lato sia per le piccole imprese e le micro imprese sarebbe eccessivamente oneroso. Il ruolo del laboratorio di esperienza digitale da un lato contribuisce alla formazione degli studenti ma dall'altro rappresenta per loro anche uno spazio di confronto in cui crescere professionalmente per inserirsi nel mondo del lavoro. Le parole del direttore della divisione piccola e media impresa di Microsoft Italia Vincenzo Esposito. L'idea di fondo, essendo Microsoft ovviamente un'azienda, l'idea di fondo è quella di creare e fare della formazione sia per gli studenti che per le piccole e medie aziende che sia funzionale ovviamente al futuro, al futuro sviluppo degli studenti da un lato avvicinandoli a delle realtà concrete che poi loro troveranno nel mondo del lavoro e alle piccole e medie aziende ovviamente favorendo una digitalizzazione non fine a se stessa ma che sia strumentale affinché possano far crescere il loro business sia a livello locale che a livello internazionale. A tal proposito soprattutto sulle piccole e medie aziende noi mostreremo tutta una serie di tecnologie uguale quella del cloud computing che è assolutamente fondamentale ed è un acceleratore nel caso specifico per le piccole e medie aziende.